E quindi vi ringrazio, ringrazio il professor Rabusca, ringrazio Armando, ringrazio ciascuno di voi che siete qua in sala e ringrazio chi ci ha seguito e mi permetto solo alla fine di acconsentire una richiesta di un nostro militante della Romagna, che è un militante non vedente, perché oggi è Santa Lucia e quindi Santa Lucia per molti bimbi significa festa, significa gioia, però Santa Lucia è anche la protrettice dei ciechi e dei non vedenti. Fra le stranezze, professore, ci sono fra i risparmi di questo Stato che non sa più dove andare a raccattare soldi, al momento, a differenza di tutti gli anni precedenti, non ci sono 6 milioni di euro per l'Unione Italiana ciechi. Io penso che uno Stato che va a portare via soldi a chi già parte da un gradino di difficoltà in più è uno Stato delinquente, perché risparmia dove vuoi, taglia dove vuoi, ma non puoi andare a rubare le tasche, a rubare nelle tasche di un disabile, di un ipovedente o di un cieco totale che magari con quei soldi trova un posto di lavoro o si paga le spese per il cane guida. E quindi questi 6 milioni di euro, con le buone o con le cattive, il Governo li deve trovare da qualche parte e deve rimetterli nelle casse dell'Unione Italiana ciechi che non li usa per andare a fare shopping in Monte Napoleone. E quindi mi ha chiesto di mettere questa felpa, io oggi mi sono messo in giacca e cravatta e l'ho fatto molto volentieri. Mi tengo la camicia però per onorare l'impegno che avevo preso con i ragazzi dell'Unione Italiana ciechi. Chiudo con la felpa che dice giù le mani dall'Unione Italiana dei ciechi, perché anche questo significa essere uno Stato equo. Vi ringrazio e vi saluto, mai mollare. Potete anche alzarvi in piedi per applaudire Alvin di una vera Busca.